Quando si può attrarre l'attenzione di un lettore del libro, di un fruttore delle immagini, io credo che il bianco e il nero sia essenziale, perché esalta il momento, esalta il gesto, esalta la postura di questi ragazzi. Se ci fosse stato il colore, probabilmente avrebbe distolto l'attenzione da quello invece che io ho cercato di, il messaggio che io ho cercato di trasmettere attraverso ogni fotografia. L'occhio sarebbe stato distratto da colori piuttosto che da, come ha detto Bazzini, dal puntum che ogni fotografia ha e che colpisce chi la guarda.